Sono un macellaio, perché mi piace macellare la carne, perché se non mi piacesse la carne macellata, non farei il macellaio, e mi piace soprattutto macellare la gente come voi, tutti i figli di troio. Alla vostra mamma, li macellerei la figa, e col cazzo del vostro babbo, ci farei il macinato, ma ce ne viene poco, perché il vostro babbo, c'era un piccino, si piccino. Mi piace la carne, sanguinolento, e per questo io mangio i vitelli vivi, ai toni di stacco le palle, amorsi, e gli stecchi da 7 kg, e il succo nel cappellate, e se una vecchietta ti chiami chiore sono, io gli dico, e l'ora che te lo trocco il culo, sì, non sbargo il culo. E guarda quanto! Con il dentino, ci faccio le polpette, con il dentino grasso, con il dentino grasso, faccio le polpette, e voi, in ilinica gagnarognosa, gagnarognosa, e che potreste essere macellati, quando meno ve lo aspettate! Quando meno ve lo aspettate! A.K.O.O.O.O.O.O.O! Questo era l'ultimo esercizio di ascolto. Adesso riprendi il libro e segui il modello di studio. Persona priva di capacità mentali.